ciao a tutti ragazzi e benvenuti su red gaming oggi vi porto overwatch un gameplay di soldato 76 allora abilità e strategie di soldato 76 di overwatch sono fucile impulsi razzi elix scatto rigeneratore biotico e visore tattico queste sono le abilità di soldato 76 bene che dire vi lascio il gameplay e buona visione a tutti c'è chi non muore l'unico tia nel mirino resistenza neutralizzata ciao di pausa ciao Stratite! L'erba cattiva non muore mai! La mia Ultra è pronta! Mi farebbe comodo un aiuto! La mia... Myukawa Galega! Armature per voi! Vedo con gli occhi del lupo! L'erba questo! Attivare la screnza di autotrug! Venga! Attivate! Venga! Mettiamola! Non so! No! 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 Il stato mio preda! Genji è con voi! Venite a prendere l'armatura! La guerra continua. Ti ho nel mio! Andano conquistando la zona, dobbiamo fermarli! Io ho le spalle. La guerra continua. Non resta nemmeno in pista! No! Non resta nemmeno in pista! Non resta nemmeno in pista! Non resta nemmeno in pista! Armatura pronta! Non resta nemmeno in pista! Tutti i sistemi verificati. Mancano 30 secondi. Salve! La missione non è ancora finita. Il lupo cazza la tua creda! Mancano 10 secondi. Allora della posizione! Don't! Felicia! Azione migliore della partita. Allora! 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 Lupa! Lupa! Grazie a tutti! Grazie.